Ciao a tutti ragazzi, sono Kyure e oggi siamo tornati in un nuovo video di Minecraft Ehm, voi vi starete, sareste, sarebbe chiedendo che cazzo succede qua Allora, ho fatto il muro, perché ho fatto il muro? Ehehehe, boh, non lo so, non so perché sinceramente ho fatto il muro No, perché mi pareva parecchio figo, guardate che figo che è tra l'altro Sembra di stare tipo in un villaggio di quelli medievali, diciamo Oh, e allora, io stavo facendo il video, solo che poi mi sono accorto che non l'avevo registrato, vabbè vabbè In questo episodio ragazzi, andremo a costruire la nostra bellissima serra Praticamente volevo farla così, tipo alta 4, coperta un po' di vetro e un po' di legno E poi dentro metterci tutto, 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 tipo il campo di grano, tipo cazzo nel sob Ehm, ok, adesso andiamo a chiudere qua col vetro, che non so neanche se minimamente ci può bastare, diciamo Ok, vediamo qua, qua qua qua, qua qua qua, non basta proprio nella vita, nella vita non basta Mi procuro altro vetro Ok ragazzi, sono tornato, ho preso, ho trovato 16 cose di, 16 blocchi di, come cazzo, di come cacchio si chiama, dai Di, di, sabbia, così almeno ho fatto 16 pezzi di vetro Poi andiamo a fare così, così Ragazzi, non ci credo, non bastano, ci vediamo tra poco ancora Ok ragazzi, siamo tornati, ci sono avanzati anche 8 blocchi di vetro Quindi adesso andiamo a, a ergere questa bellissima crono di cobblestone Questa ancora Ehm, sembra tipo una specie di, di game, di mini game di, 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 di matrix Non veniva il nome Allora, ci siamo procurati alla nostra bellissima Dovremmo avere dell'acqua, fantastico Acqua Ehm, zappa Ehm, grano, no, non ci serve E si va a comandare Ok ragazzi, siamo arrivati qua L'acqua la possiamo mettere benissimo qua Fantastico E cominciamo a zappar a vigna Come Enrico Vasquale praticò Esatto Ehm, ta, bene così Ok, abbiamo finito di zappare tutta a vigna Ehm, possiamo andare a mettere i nostri semi Che probabilmente avanzeranno Perché io preferisco prima mettere le carotine, diciamo E ripigliate subito Grazie mille Ok, ehm, scusate, provo a fare una cosa Ehm, ok ragazzi, provato a aumentare gli FPS da parte di Minecraft Ma, a quanto pare non cambia niente Laga comunque Ok, abbiamo quasi finito Ta, 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 bam Finito il nostro primo orticello Che devo dire non è neanche tanto brutto Allora adesso ragazzi Visto che dovrei, dovrei avere del legno qua Da qualche parte Vabbè, sì, c'ho quello di querce Però, troppo normale quello di querce Vabbè, così, 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 così Così, così e così Facciamo Ah, no, ok, allora Ah, è vero che con la 1.8 te ne danno un pacco di porte La 1.5.2 te ne davano una con sei blocchi Qui con sei blocchi te ne danno tre Quindi, formato risparmio, diciamo Facciamo bam e bam Olè Poi, visto che ci sono Papapapapapam Papam Un FPS è arrivato È arrivato a toccare un FPS Cioè, non so se vi rendete conto Dello schifo che fa il mio computer Ah, Natale, muoviti da arrivare E bam Allora, eh Serra Grano Benissimo ragazzi Siamo arrivati anche al termine di questo episodio Se il video vi è piaciuto Lasciate un mi piace Commentate, scrivete Vi passerò la pagina Facebook Instagram Che come il video Lasce in descrizione Da chiudo tutti Ci si becca al prossimo video Never back No